L'Assemblea dei 155 sindaci della provincia di Cosenza ha approvato il nuovo statuto dell'ente. Si tratta di un atto importante che apre la strada alla nuova vita della provincia. Parte in sostanza con questo nuovo ordinamento, quello mutuato poi dalla nuova legge del Rio, la nuova provincia che è un ente di aria vasta che sta accanto ai comuni e in qualche modo, seppur con limitate risorse, cerca di risolvere le problematiche urgenti da un lato e dall'altro affronta in termini più generali quelle che possono essere le questioni che possono influire su uno sviluppo strategico del territorio. Noi già ci siamo soffermati su questa valenza, abbiamo pure fatto delle attività importanti che riguardano la programmazione del ciclo dei rifiuti in ambito provinciale, una programmazione che riguarda anche la pianificazione di sistemi complessi, soprattutto quello relativo ai fiumi. Infatti sono partiti da qualche giorno i contratti di fiume che coinvolgono il contratto del fiume Crati che coinvolge tutti gli attori principali che sono quelli che poi vedono il fiume non soltanto come un elemento giustamente, diciamo, da salvaguardare con una nuova coscienza anche ambientalista che è propria degli ultimi decenni ma che lo vedono come una risorsa da valorizzare. Ma non si pensa solo al risanamento. La provincia intende muoversi con decisione in direzione della valorizzazione del territorio anche se le risorse disponibili sono ormai davvero ridotte all'umicino. La nostra è una provincia straordinaria, di una bellezza e con risorse di tutti i tipi che devono essere semplicemente valorizzate. Noi ci stiamo ponendo con poche risorse ma con uno spirito creativo e propositivo in questo duplice filone. Da un lato un aspetto di programmazione legato a questo dall'altro la gestione dell'emergenza in attesa che anche il governo nazionale possa rivedere. Le risorse e anche i tagli che sono stati fatti ultimamente dalle province che non consentiranno di andare oltre il dicembre se non ci sarà un atteggiamento di tipo diverso.